Oggi Fossano Lavagnese, una gran vittoria per voi, ti portiamo a casa anche il pallone, che bella soddisfazione! Sì, è stata una bella soddisfazione sia a livello personale sia a livello di squadra, abbiamo raggiunto un gran obiettivo, abbiamo fatto 56 punti, abbiamo raggiunto questo obiettivo molto importante, siamo prefissati da quando è arrivato il mister e sono contento, come mi ripeto, sia a livello personale che a livello collettivo. Ecco, era il campionato che vi aspettavate? Sì, un po' particolare quest'anno. Un po' particolare per il fatto del Covid, però questo gruppo non ha mai mollato, da quando sono arrivato, comunque mi hanno accolto benissimo, mi sono integrato molto bene e siamo usciti a raggiungere quello che era il nostro obiettivo, tra tante difficoltà ovviamente. Adesso inizierà anche il calciomercato, qualche novità? No, ancora non so niente. Ecco, quest'estate rincherà di nuovo ad agosto? Sì, penso di sì, il campionato abbiamo finito oggi, adesso ci aspetta un mese di vacanze e poi si riparte più forti di prima, dai!